Il discorso dei filati che preparano poi metà la posta. Il discorso di questo modo, è così. si può essere anche questo questo non è necessario questo non è necessario questo non è necessario perché non puoi fare da qui perché se si chiama qualcosa che non è codice come si può entrare? come si può entrare? come si può entrare? Sì, non è vero, non è vero, non è vero. Do you want that function permanently you have to remove? Which one? This one? No, this one in carta is not necessary, it's dangerous. And from here? From where? From here, from here of course, but from here you will have something here. No, 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 from here nothing, from here you go to the blanket, that's it. Okay, and from here? From here you will have here, when you are in the blanket. Ah, sir, when you are in the edit pattern, you can see the option below, right? Ah, ah, ah. So it doesn't make all this option. So it is easy, we can remove these options from here. Remove. It's not necessary, this one. No, no, no. It's not necessary, this one. No, no, no. It's not necessary, this one. It will be always, it will be just from here. From here, but not here. When you are in the blanket, not here, but when you are in the blanket, no blanket. Hmm. Mmhmm. Grazie a tutti.